Buona giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria, dentro cui la mattina presto dobbiamo, quando ci alziamo da letto, immediatamente rifugiarci per farci santi, per proteggerci dal peccato e perché i cuori di Gesù e di Maria ci preservino dal male, ci tengano in stato di grazia. È nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è venerdì 21 maggio, è venerdì, quindi vi ricordo l'astinenza dalle carni a tavola e il più esercizio ogni venerdì di tutto l'anno, quindi anche oggi il più esercizio personale ovviamente della via Crucis. Oggi è l'ottavo giorno della novena di Pentecoste in preparazione dello Spirito Santo, in preparazione alla festa di Pentecoste e quindi viviamola con intensità questa novena ed è l'ultimo giorno del Triduo in preparazione domani, 22 maggio, alla festa di Santa Rita, la santa degli impossibili, cui va veramente tanta devozione, a cui è rivolta tanta devozione da parte del popolo cattolico, particolarmente in Italia, ma non solo. Ci stiamo preparando alla solennità della Pentecoste domenica. Però vi ricordo anche che domani, 22 maggio, e questo è molto importante da dire, tenetelo presente e appuntatelo, perché tanti vi siete aggregati da poco tempo rispetto all'anno scorso, quando il 31 maggio 2020 abbiamo fatto la consacrazione alla Madonna con la catenina. Allora quest'anno ci prepariamo di nuovo quelli che l'abbiamo già fatta per rinnovarla, il 31 maggio, lunedì l'altro, 31 maggio, e quelli che non l'avete ancora potuta effettuare potrete così farla, seguendo però la novena che andrà in onda ogni giorno in diretta, dopo la messa delle 17 e 30, dopo la messa del 17 e 30 con l'Esposizione Santissimo, la preghiera del Santo Rosario, il canto delle litanie, e a seguire appunto da domani, 22 maggio, fino al 30 maggio, questa novena in preparazione alla consacrazione come schiavi di Maria. Quindi per quelli che l'abbiamo già fatta si tratterà di rinnovarla e soprattutto andrà bene per quelli che non l'hanno fatta e hanno chiesto in quale modo ci si può consacrare. Ecco qui, allora adesso procurate da voi stessi questa catenina, potete come dicevo già l'anno scorso farci scrivere quel che desiderate, sarebbe meglio scriverci Domina Mea per esempio o Corredentrix, insomma un riferimento evidentemente alla Santa Vergine Maria. Vorrei ringraziare poi Lucia Sant'Agada di Castrovillari, una figliola del piccolo resto calabrese della prima ora, a dire il vero, che ieri ci ha fatto pervenire un pacco di indumenti molto molto gradito per me, per Biaggio e Giovanni, ecco, è così. A proposito di Biaggio e Giovanni, vi siete accorti che ieri non c'erano a messa e qualcuno ha già chiesto. Allora oggi posso ufficialmente dirvi che ieri sono partiti per l'America, faranno un'esperienza ospiti del piccolo resto in America, naturalmente non diciamo esattamente dove, era una proposta che da più tempo veniva fatta presente. Io come padre spirituale, loro padre spirituale, ho voluto prima appunto approfondire, pensarci, rifletterci e così via, alla fine è venuto il momento, era venuto il momento che essi potessero effettivamente vivere questa esperienza straordinaria, per loro sarà un'esperienza straordinaria, adesso sono per qualche giorno in Biaggio e poi dopo si troveranno lì in America, dalla quale poi ovviamente perché siccome so quanto siete affezionati sia a Biaggio che a Giovanni, non preoccupatevi, ci saranno occasioni nelle quali li potremo sentire, faremo dei collegamenti anche così magari un po' ci raccontano come vanno le cose da quelle parti e così, allora li raccomando alla vostra preghiera perché in questo momento sono appunto in cammino, in viaggio verso l'America, lì voi sapete che in America, dal Nord America, praticamente dal Canada all'Argentina, ci sta un piccolo resto cattolico sempre molto generoso, molto disponibile nei nostri confronti, un piccolo resto che si fa presente in molti modi e così da molto tempo avevano desiderio che anche io potessi andare, attualmente io in questo momento non posso andare perché da quando Don Enrico Roncaia ha deciso di seguire la sua personale strada creando quindi così un micro scisma, io non posso facilmente allontanarmi perché c'è radiodomina quindi devo celebrar messa, devo fare le catechiesi e così via dicendo, però era venuto il momento che non potevo far da egoista perché siccome non posso partire io allora loro non potevano, io penso sia stato giusto a un certo punto che loro potessero andare a fare questa esperienza molto bella, del resto diciamo stanno rispettando tutti i criteri di sicurezza relativi alla cosiddetta pandemia e così allora li raccomando alla vostra preghiera perché per un po' di tempo esattamente ancora non sappiamo quanto si assenteranno, vi assicuro che sono insieme, non è che vanno ciascuno per conto proprio, uno va da una parte o uno va dall'altra, ma sono Giovanni e Biagio insieme e credo sia giusto che, era giusto che facessero questa esperienza, ripeto avrei desiderato andare anche io ma in questo momento non è possibile e allora ho ritenuto che era importante che loro potessero comunque sperimentare l'apertura degli orizzonti e conoscere, fare esperienza del piccolo resto cattolico presente in America, poi Dio farà quel che riterrà opportuno evidentemente quindi per un po' di tempo mi vedrete celebrare la messa o qualche altro collaboratore ma senza Biagio e Giovanni per un po' di tempo, però siccome esistono sempre le male lingue che sono con una lingua, se il serpente ce l'ha biforcuta ci sono persone che sono peggio dei serpenti anche nel piccolo resto, persone della prima ora che sputano sul piatto dove hanno mangiato insieme a noi, allora per fugare tutti i sospetti e tutti i dubbi vedrete che ogni tanto ci sentiremo, si faranno sentire e avremo dei collegamenti proprio fatti apposta per mettere a tacere i sospetti e i dubbi che chissà se se ne sono finalmente andati da questo guru, da questo Santone mi dispiace per tutti voi quelli che ovviamente ci avreste sperato, non se ne sono affatto andati da sottoscritto, è proprio il sottoscritto che invece come padre spirituale li ha inviati lì perché facessero questa esperienza e quindi vedrete che poi li sentiremo di volta in volta. Pregate per loro e vi raccomanderei peraltro perché so che avete molti di voi il numero telefonico di Giovanni e Biaggio che almeno in questi primi giorni non li assediate di chiamate per sapere dove sono, perché io conosco le donne, conosco bene la psicologia femminile, adesso molte vorranno sapere dove sono, con chi sono, quanto sono, fuori, quanto mancheranno, quindi siccome naturalmente da me non lo possono sapere e non lo devono sapere perché siamo sempre in un cammino che merita un certo criterio di riservatezza, vi pregherei figliuole care che avete il numero telefonico di Biaggio soprattutto e poi anche di Giovanni che se fosse possibile poteste evitare di tempestarli di domande per sapere con curiosità dove sono, con chi sono, quanto sono lì, quanto tempo staranno. Qualcuno chiede se predicheranno, ma che predicheranno? Non sono i capreti, stanno andando a fare un'esperienza ripeto in America, oltro oceano, da persone assolutamente affidabili che conosco da molto tempo, da anni ormai, che fanno parte pienamente del piccolo resto cattolico e che adesso finalmente hanno la gioia di accogliere Giovanni e Biaggio perché possano conoscere anche, aprire gli orizzonti e non essere sempre solo soltanto a piccolare. Sebbene devo dire che col sottoscritto hanno viaggiato molto, sono venuti con me, se vi ricordate, in America Latina, Argentina, Uruguay, Brasile. Poi siamo stati in giro per l'Europa, dalla Polonia al Portogallo, dalla Spagna alla Svizzera, dalla Francia alla Germania. Quindi voglio dire che grazie a Dio con me si sono anche potuti aprire di volta in volta agli orizzonti. Ma come ho detto e concludo, ribadisco, di volta in volta, non subito perché bisogna dar loro tempo di arrivare lì, sistemarsi. Diciamo che più o meno fra una decina, quindicina di giorni, faremo una diretta con loro e vedrete che tutto andrà contro quelli che sono lì a pensare chissà chi è. Ecco, torneranno e continueranno il loro cammino accanto al sottoscritto, ma questa esperienza era opportuna. Allora siamo ancora nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, e volevo citarvi l'esperienza assolutamente straordinaria di un santo mariano poco noto, ma che ha avuto l'esperienza dello sposalizio con Maria. Addirittura la Madonna con i propri capelli gli ha dato l'anello di questa unione assolutamente straordinaria e singolare. Sto parlando del beato Alano della Rupe. Alano della Rupe è un frate belga, credo che sia, dominicano, del 1400, che ha diffuso lui più di San Domenico, starei per dire, la pratica del santo rosario, è proprio il santo del rosario il beato Alano. E nella sua vita ci colpisce proprio la dimensione soprannaturale. Vorrei leggervi da questo libro, beato Alano della Rupe, il salterio di Gesù e di Maria, Genesi, storie e rivelazioni del santissimo rosario a cura della casa editrice Ancilla, un libro che raccomanderei di leggere, veramente sorprendente. Alcuni passaggi sorprendenti della sua vita. Leggiamo il capitolo quarto e andiamo al momento in cui, praticamente per permissione divina, per sette anni il beato Alano della Rupe viene sottoposto a vessazioni sataniche e da queste, come ora vedremo, lo libera la Santa Vergine Maria. Leggiamo Dio così permettendo, come solo lui poteva farlo uscire fuori dalla tentazione, ecco che fu tentato, il beato Alano, per sette anni interi, assai crudelmente dal diavolo. Si tratta di vessazioni interiori riguardanti quelli che anche altri santi hanno avuto, per esempio padre Pio, madre Teresa di Calcutta, tentazioni sulla fede che sono tra le più pesanti da sostenere per chi si è dato a Dio. In queste tentazioni Satana fa credere che Dio c'è ma di te non si cura. Satana ha il permesso di tormentare l'anima facendole credere che Dio di lei non si prenda cura. Quindi c'è una proprio battaglia della fede dove l'anima deve resistere confidando pienamente in Dio, rimanendo profondamente in preghiera, in unione con Dio per non deviare. Ma questo non è tutto perché Dio permette anche che il beato Alano della Rupe, forse anche per la missione di diffondere il rosario, venisse sottoposto a vere e proprie bastonate da parte del diavolo. Un po' come padre Pio, cioè il beato Alano della Rupe veniva picchiato dai demoni. Lo hanno odiato moltissimo perché lui, il beato Alano, il Monforte purtroppo non ha avuto possibilità di accorgersi di questo, altrimenti avrebbe provveduto il Monforte, voglio dire, nel trattato della vera devozione. Non accredita il beato Alano della Rupe, invece accredita San Domenico di Guzman, che secondo la tradizione è appunto quello che riceve il santo rosario, la sua storia, la storia che racconta quando la Madonna gli porta la corona del rosario dal cielo. È una storia sorprendente, lui per tre giorni e tre notti non mangia, non dorme, non beve, poi sviene, la Madonna lo sveglia, gli dà una fiala da bere dove c'è il latte materno di Maria. San Domenico si riprende, la Madonna gli dice adesso ti do quest'arma va a Tolosa, anzi rimane a Tolosa perché l'appenimento è accaduto a Tolosa e vinci, sbaraglia gli eretici. In effetti San Domenico riuscì a vincere gli albigesi, i catari lì a Tolosa con la potenza del rosario e da quel momento San Domenico volle tenere sempre con sé, come fanno i domenicani e anche altri ordini religiosi, la corona sulla cintura e diffuse questa pratica, però il vero diffusore, il vero cultore, il vero propagatore del santo rosario, ancora più di San Domenico, è un figlio di San Domenico vissuto 200 anni dopo circa e cioè il beato Alano della Rupe. E siccome il diavolo ha paura del rosario e aveva capito che il beato Alano aveva questa missione, Dio ha permesso che gli venissero i demoni addosso per picchiarlo e anche fisicamente, dice il testo fu battuto dalle sferze e ricevette duramente percosse con fruste. A tal punto furono dunque parecchio crudeli quelle sferze da torturargli abbastanza spesso la vita o spingerlo alla disperazione se la benigna vergine di Dio in pietositasi non avesse così portato all'afflitto di tanto in tanto soccorso e rimedio. E poiché assai largamente per la così gran forza occulta proprio da parte dell'impetuoso torturatore, molto spesso era agitato furiosamente dallo spirito della disperazione a darsi la morte violentemente, cioè è tentato di suicidio il beato Alano. Questa è un'esperienza limite che anche altri santi hanno vissuto, penso a Sant'Ignazio di Loiola, a Santa Teresa di Lisie, questa battaglia per la fede a volte ha costretto i santi a pensare anche di farla finita, pensate un po'. Ma qui ancora una volta interviene Dio, apparendogli, dice il testo, visibilmente all'improvviso dissipando la tentazione. Guardate qui il testo cosa dice già infatti, ahimè, la mano tesa del tentato, avendo estratto il coltello, sebbene non aveva la piena volontà, piegò il braccio e con la lama affilata scagliò alla propria gola un colpo così deciso e certo per la morte che di certo avrebbe causato, senza alcun indugio o dubbio, il taglio della gola. È veramente un racconto, a mio avviso, impressionante questo, e forse molto attuale, che aveva recisa. Ma si avvicinò, ecco qui, misericordiosissima, la Salvatrice Maria. Raro trovare questo termine. Servatrix Maria, perché il testo dell'edizione Ancilla riporta al lato l'originale. Servatrix Maria. Bello questo titolo, anzi io quasi quasi proprio lo sottolineo. Servatrix Maria. Eccolo qui, la Salvatrice Maria. E con un colpo deciso, in soccorso a lui, afferra il suo braccio, non gli permette di farlo, dà uno schiaffo addirittura. Cari figlioli, la Madonna dà uno schiaffo al Beato Alano. Evidentemente è uno schiaffo materno, uno schiaffo salvifico. E questo contro tutti quelli che pensano che la devozione mariana, i modernisti, che non sono nostri fratelli nella fede, chi lo pensa sbaglia. E gli dà uno schiaffo per risollevarlo, per ridestarlo. E dice, che fai, o misero? Questa è la Madonna che si rivolge al Beato Alano. Se tu avessi richiesto il mio aiuto, come hai fatto altre volte, non saresti in corso in così grande pericolo. Nessuno si toglierebbe la vita e nessuno approderebbe alla disperazione, ma questi santi lo insegnano se si invocasse la Madonna. Figlioli cari, questo è il segreto. Anche io parlo per la mia esperienza personale, la mia vita non è certo facile, non è certo normale la mia esistenza, ma veramente questo è così. L'invocazione a Maria ci salva. Anche sabbie mobili della tristezza, della disperazione, dell'avvilimento e ci salva. Servatrix Maria. Ecco, la salvatrice Maria. Questo è il titolo oggi della rubrica Santi e Caffè. Il Beato Alano della Rupe è Maria salvatrice. Ecco, la Madonna lo salva e dice, chiunque mi invoca sarà salvato. E così, figlioli cari. Nei momenti difficili pensate subito a Maria, chiamate la Madonna, invocate la Madonna, cercate la Madonna, chiamatela, chiamatela, invocatela, invocatela, invocatela e vedrete che senza accorgervene i demoni fuggiranno, il demone della disperazione, della paura, dell'angoscia, della tristezza, della rabbia e sarete liberati. Detto questo svanì e il misero rimase da solo. Bene, per oggi può bastare così perché io riprenderò la vicenda del Beato Alano e vorrei solo aggiungere questo. La benedetta Vergine Madre di Dio gli appende al collo perché poi dopo iniziano tutta una serie di esperienze mistiche sorprendenti di stampo mariano. Di fatto il Beato Alano può essere chiamato il mistico di Maria, anzi ho deciso di cambiare il titolo adesso della rubrica, lo intitoliamo meglio, il Beato Alano della Rupe, il mistico di Maria. Questo è il titolo che diamo alla rubrica di stamane, il mistico di Maria, il Beato Alano della Rupe, il mistico di Maria. Pensate un po', guardate cosa dice il testo? Che la Madonna gli appende al collo mettendogliela addosso una catena intrecciata di capelli virginei, cioè la Madonna prende i propri capelli e glieli mette addosso a forma di collana sulla quale stavano attaccate 150 pietre preziose e 15 secondo il numero del suo salterio. Praticamente gli dà a Beato Alano come rimedio contro i demoni che lo tormentano la corona del rosario. E allora anche noi impariamo, fiolicari, a invocare la Madonna. Certo, lui era il mistico di Maria, il Beato Alano, noi ci accontentiamo di essere semplicemente devoti di Maria, ma invochiamola la Madonna nei momenti difficili e non perdiamo mai fiducia nella potenza del santo rosario. È un segreto a cui i modernisti non hanno accesso. Dio impedisce loro per punirli di comprendere la potenza misteriosa, sorprendente e soprannaturale del rosario. Perché un modernista, soprattutto se è prete o se è teologo, disprezza il rosario? È Dio che lo permette, perché Dio non permette loro l'accesso, per il loro orgoglio, alla comprensione di che cosa sia mai il santo rosario. È il rosario che ci porterà in cielo, fiolicari, è il rosario che ci salverà, che salverà la Chiesa, il rosario salverà il mondo, il rosario incatenerà l'anticristo. Ma questi modernisti non possono capirlo perché appunto è un mistero, un segreto, anzi, come dice il Monforte. Se il Beato Alano della Rupa è il mistico di Maria, come altre volte abbiamo detto, San Luigi Maria Grigno da Monforte è l'apostolo, il campione di Maria. Allora lui ha scritto questo testo molto bello, piccolo e anche molto facile da leggere, che si intitola Il segreto meraviglioso del rosario. Servatrix Maria, la salvatrice Maria. Si, fiolicari, si tratta solo di farne esperienza. La Madonna viene per salvarci, la Madonna è qui con noi per aiutarci, la nostra strada non è un vicolo cieco. Noi del piccolo resto cattolico, mentre si va delineando sempre più chiaramente la duplice fazione non cattolica, quella dei progressisti bergogliani e quella dei criptosedevacantisti alla Viganò, alla Don Curzio Nitoia. Noi stiamo nella chiesa cattolica di sempre, lì c'è un criptosedevacantismo. State molto attenti, state molto attenti alle false sirene, alle false proposte di salvezza. Non ascoltate, non seguite questa gente come Viganò, come Curzio Nitoia, il sacerdote che per ora è dappertutto, come la Mendola. Non li ascoltate perché questi mettono insieme Bergoglio con Benedetto XVI e fanno credere che Benedetto XVI è modernista. Peccato per loro, disgraziati come sono accecati, peggio dei bergogliani, che scordino che Benedetto XVI ha lavorato per la restituzione del vetus ordo. Già solo questo li dovrebbe zittire, ma c'è tanto orgoglio, forse più di quanto non ce ne sia nelle file bergogliane. Non ascoltate, non seguite, non lasciatevi il retire, l'anima dalla proposta suadente del cripto-sede vacantismo che crede che Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e poi Papa Francesco siano frutto di un cammino ben preciso, con imprecisioni, luoghi comuni, imperdonabili per chi si ritiene teologo come Don Curzio Nitoia, che per esempio fino a poco fa ho ascoltato, dice che Fonbalta Sarnega l'esistenza dell'inferno. Questa è ignoranza imperdonabile. Posso testimoniarlo di persona, perché ho fatto la mia tesi di laurea alla gregoriana, che Fonbalta Sarnega non ha mai detto che l'inferno è vuoto, non l'ha mai detto, ma non abbiamo niente da fare. Con figure orgogliose, con questo titanismo tipico del cripto-sede vacantismo alla Lamedola, alla Don Curzio Nitoia, alla Viganò, vi dico state in guardia, state in guardia, piccolo resto, stai in guardia. Ormai da quattro anni ti ho fatto intendere e hai capito che era bene non fidarsi della falsa chiesa bergogliana, adesso il nostro compito, il mio compito, forse dopo finalmente vado a godermi il cielo, il mio compito adesso è di mettervi in guardia, figlioli cari, piccolo resto, in guardia dal cripto-sede vacantismo di questi pseudo-profeti che negano che Benedetto XVI sia il Papa, lo chiamano modernista, con luoghi comuni, espressioni offensive che sono vergognose, che fanno capire che questi non sono nella chiesa, loro hanno il progetto di ritenere che la chiesa, quella vera, è rimasta ferma alle porte del concilio Vaticano II e che con Viganò, morto Bergoglio faranno quello che devono fare annullando e azzerando 50-60 anni di vita della chiesa. È imperdonabile questa posizione, c'è ambiguità, è un cripto-sede vacantismo che non corrisponde al disegno di Dio, miei cari figlioli. Sentire Don Curzio Nitoia offendere Karol Wojtyla, sottolineando che era un attore che siccome aveva studiato la rapsodia di matrice ebraica allora era così ambiguo, state attenti perché sono molto più suadenti di Bergoglio, sono compari d'anello di Bergoglio. Un Don Curzio Nitoia è di un'approssimazione, di un'approssimazione ideologica imperdonabile. Non fosse altro che ha affermato che con quella tipica baldanza del mondo cripto-sede vacantista e popolar tradizionalista, per cui Fon Baltasar avrebbe detto che l'inferno è vuoto. Sono qui a dire da anni, e l'ho dimostrato con la mia tesi di laurea che ha preso il massimo dei voti alla Gregoriana, ho avuto summa cum laude la menzione e l'invito a pubblicare per intero la tesi che è raro alla Gregoriana con i dottorati, perché l'equipe di docenti gesuiti, tra cui un croato, uno spagnolo e un austriaco, mi hanno detto che questa tesi deve essere conosciuta per risolvere l'enigma che fanno circolare, secondo cui Baltasar avrebbe detto che l'inferno è vuoto. E così, come dicono questo di Baltasar, raggiungono tutto il resto. Tutto il resto. Perché questi qui non vogliono dialettica, hanno ragione loro. Questi professoroni alla Lamentola, questi sacerdoti, sede vacantisti che ora tornano di moda come Don Curzio Nitoia, fanno parte di un progetto gestito da Viganò. Viganò sembra, e si presenta così, come l'uomo mistico del momento, ma poi dopo tiene le fila da ottimo diplomatico, lui che infatti mostra di non avere alcun contatto col popolo santo di Dio. Col popolo santo di Dio. Ecco, miei cari figliori, quello che avevo da dire ve l'ho detto. Adesso passiamo alle telefonate, il numero telefonico lo conoscete? C'è già la prima telefonata. Pronto? Pronto. Sia lodato Gesù Cristo. Prego. Sono Andrea D'Avercelli. Prego Andrea, dimmi pure. Quindi, no, devo chiedere. A presente il Papa Benedetto, quando inazionalmente contrario, poi ha approvato, e anche lui stesso ha partecipato al convegno di assisi, non mi ricordo l'anno, però c'è da dire che non tutte le religioni sono uguali, nel senso che... E forse lui ha detto questo? No, no. Allora, non lasciatevi raggiungere dai dubbi su Papa Benedetto. Io sono... Perdonami, non ce l'ho con te, rimani in diretta, infatti, così finisci la domanda, però permettimi questa affermazione. Io sono stufo di sentirvi dubitare di Papa Benedetto, e questo è ormai intollerabile. Papa Benedetto XVI ha fatto il Papa come Dio voleva. Ha cercato in tutti i modi di salvare la Chiesa dalle due derive estremiste, del progressismo che poi ha vinto, ma anche del sede-vacantismo tradizionalista, ha recuperato la messa, ha fatto dei gesti importanti, ha recuperato il terzo segreto di Fatio. Io non so cos'altro doveva fare. Nel frattempo ha cercato anche di gestire la Chiesa in un momento difficile e quindi anche se è andato ad Assisi a cavalcare quella roba lì, non è che lui ha detto che le religioni sono uguali, non l'ha mai detto. Prego. No, ma mi volevo chiedere, perché l'ha fatto allora? Eh, ho finito di dirlo, ti rispondo per telefono, va bene? Lo aggiungo di nuovo. Eh, va bene. Ecco, Dio ti benedica. Ho appena finito di dirlo, figlio lo caro, lo ha fatto perché in quel momento lì di tensione Papa Benedetto ha cercato in tutti i modi di tenere le... come ha provato a fare Giovanni Paolo II, poiché non ci siano riusciti un'altra storia. Ma il Papa è il Papa di tutti. Non è Bergoglio che decide lui chi è cattolico, il nuovo cattolico e scomunica. Benedetto non si sarebbe mai sognato, pur passando per Pasdaran, pastore tedesco, di fare quello che ha fatto Bergoglio. Il Papa ha cercato in tutti i modi di tenere uniti i cattolici, orientandoli però per una direzione giusta, che era quello, senza negare. E quella è la posizione nostra perché sia chiaro. Io me ne infisco di restare solo. Mi state stufando con questi dubbi che continuamente da qui e da lì ponete su Benedetto XVI. Non lo permetto più, soprattutto perché adesso ci sono questi cripto-sede vacantisti che vomitano veleno chiamando Benedetto XVI modernista. È intollerabile sentirli parlare così del Papa. Intollerabile. Smettetela di puntare il dito contro Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Hanno avuto dei limiti, hanno compiuto possibilmente degli errori, ma erano i Papa. Cia l'uno che l'altro, validamente eletti. Mentre chissà perché i sede vacantisti non affrontano mai la questione dei due Papi e non affrontano mai le questioni sollevate da quattro anni da Don Minutella, circa la mafia di San Gallo e così via dicendo. Su questo poi improvvisamente tacciono. E così Bergoglio è come Ratzinger, Ratzinger è come Wojtyla, Wojtyla è come Montini e loro salveranno la Chiesa. State attenti a queste posizioni pericolosissime. Non fatevi venire dubbi sul Papa perché nel momento in cui lo fate vi ponete in una condizione in questo momento di tipo soprannaturale pericolosissima. Siamo sul crinale proprio figlio di cari e ve lo dico. State in guardia e rimanetevene cattolici. Pronto? Pronto? Siamo sielo dato Gesù Cristo? Sempre sielo dato. Prego. Anna Alessandro, buongiorno, sono Anna Picca da Regersburg. Ecco Anna, eccoci qui. Volevo fare più di una domanda, però questa volta ho deciso, vorrei chiedere, sono un po' emozionata, vorrei chiedere se potessi spiegare un po' la liturgia, i momenti, per esempio il messaggio che viene portato dalla sinistra alla destra, dalla destra alla sinistra, poi il sacerdote che dice l'altavoce, no? Discuoco e peccatori, perché quella frase la dice l'altavoce? Non risponde a qualcosa che ha detto Gesù sulla croce? Certo, certo. Non lo so. Qualcosa? Certo. Sì, ci sarebbe bene. Anna, intanto ti saluto con affetto, rispondo per telefono, tanta benedizione. No. Allora, io mi sono concentrato molto su questo libro, sull'Apocalisse, che ho appena terminato, lo sto correggendo, e il mio prossimo impegno sarà di scrivere qualcosina sulla messa vetusordo per spiegarla in un ciclo di catechesi a tutti voi, perché giustamente Anna chiede perché il messale si passa da una parte all'altra, questo limite può essere solo un dettaglio, ma anche altre questioni, per esempio, no? Biscuoco e peccatori, perché si dice a voce alta rispetto a tutto il canone e tutto il resto. Ecco, abbiate pazienza se vorrete attendere quello, altrimenti per il momento potreste chiedere su internet il libro di Lefevre che ha spiegato la messa, ve lo raccomando, un libro di Monsignor Marcel Lefevre in cui spiega la ricchezza della messa vetusordo. Bene, miei cari, concludiamo qui. Allora vi ho detto di Giovanni e Biaggio, quindi a questo punto ci vediamo oggi pomeriggio per la celebrazione della Santa Messa e come sempre in questo periodo dopo la messa esponiamo il Santissimo Sacramento e preghiamo in ginocchio le litanie pregando per il Santo Padre, per Papa Benedetto, povero Santuomo, viene abbandonato come vedete da tutti, perseguitato, in questo praticamente c'è una sorta di contiguità missionaria tra Benedetto XVI e Don Minutella, perseguitato dai Bergogliani fino a costringerlo ad andarsene, è fucilato in pubblica piazza dalla vergognosa diffamazione di questi orgogliosi, un orgoglio titanico di questi cripto-sede vacantisti dalle quali vi invito a stare alla larga, alla larga da Viganò, alla larga da Nitoia, alla larga dalla Mendola, alla larga da questi uomini, donne che si stanno alleando tutti tra di loro perché Viganò sta diventando molto più insidioso di Bergoglio, praticamente lui cavalca il dissenso bergogliano ma indirizzandolo anche contro Benedetto XVI e contro tutto ciò che c'è stato dal concilio oggi e questo è un errore di prospettiva eretico, la Chiesa ha continuato ad esistere ed esiste ancora oggi con Benedetto XVI, chi non è con Benedetto XVI e non lo riconosce attualmente come Papa che lo faccia con Bergoglio, lo faccia con Viganò è fuori dalla Chiesa, siete fuori dalla Chiesa cattolica di sempre vi benedica Dio nipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, amene sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria Dio nipotente, Padre, Figlio e Spirito